La colpa di un chiodo, un'intera famiglia va in difficoltà. La colpa di Giovanni Amato è la cultura, ma in diretta si chiama Dinesiore. Buon divertimento, eh? Ma dottor, ma è sicuro che il suo ragazzo fa una cultura? Mi vuole insegnare il mestiere, stia zitta e segua attentamente quello che faccio. E questo è il penetrision che prendo i miei colleghi. Giù che, eh? Non c'è niente? No, no, anche la fabbrica è più rotta, la stava sento l'obiettivo. Cassia di legno, ho fatto d'or! E che pippo, senti che ho fatto un bel piso. Chi continua a lavorare, che ti fai dire? Ma è malato, eh? Sì, ho fatto il sudore primavera, ma si deve lavorare anche. Ma... Ma io sai che l'era meglio andare un po' le regalini, piuttosto che il lupo. Eeeh, senta che perla! Ton caffè ero qui presente... Eh, cos'è la domanda che aveva tutti i tesani? Che dura gli anni assurdo? E non è colpa a tutta la potere, eh? Poi è anche colpa nostra, i genitori. E si, perché? La casetta è un problema mica. La televisione la guardava poco. E si, non c'è la malevole. Non c'è la malevole. Ma... Anche... E... Il franile di Lucia è col capoletico. E il sorelle di Marienne. E il secondo cosa... Fai la foto in Valentini e conto cosa succede. Dai! E poi arriva appunto con solo 4 bagariti in mano. E sono un cammino ragazze, che è morta moglieva una scona passata. Perché il dottore mi ha detto che il stomaco è bello e poi io bevo l'acqua perché sennò c'è la luce. E' vero che ti ha detto che sto bello, pronta di dare perché la testa è fisica, vuol dire che ci sarebbe una campagna. Un po' di pesca! Un po' di pesca! Allora cosa... E nau coi di pesca, mi chiedi buono e poi fai una cosa! Porta! E' un po' di pesca! E' un po' di pesca! Ok... Poi... Adesso ci siamo un po' di pesca! come vuol dire aver studiato? ma come vuol dire aver studiato? che sono? non puoi parlare niente sento chi sono lì approdisiaco parlobacco, vorrei dire lei non vuol mai camminare dall'Africa no? come vuol dire aver studiato? come vuol dire aver studiato eh? ma di quelle puoi sbaracca ai pressi del cartone eh? beh comunque secondo me guarda la poteva buttare su perché te buttare via le mare che lei che te partirebbe stai niente parti del ferro eh? ragazzi la proposta è che per i 25 si mani versiari ai patrimoni e mi piace smandare ma io era stato un bel viaggio e un bel paese e le pensai al malocchio ma è non tanto un vero ma qui ma cosa è? non stanno i marocchetti ma non è malocchio ma si dice il marocchio ma non è malocchio ma non è malocchio ma non è malocchio ma signor benedetto beh lì sono le due sei precisi però non so che lontanbombe beh e questo è lontanbombe che vuoi fare? Un malocchè che tutti i mattini lavora con me e viene a lavorare in bicicletta, poi mi riescono tanto a fare. Allora l'amante in Australia, hai mai visto un'Australia di tutti i mattini che viene a lavorare in bicicletta? Ma stiamo a sentire, c'è tra i venticinquesi ma stiamo a mandare in Australia, tra i cinquantesi, un po' che ti intenzione per mandare la Australia sulle donne? No, no, la vagatone andrà, la vagatone! Eh... Eh, andiamo via anche lui, perché tu puoi giocare solo per te. E for me te hai chiesto che mi veste che avevo dovuto essere risposto a un miglior spettacolo. No, no, beppe! Ah, non so migliori, neanche mi interessa. Ah, poi mi interessa sapere, beh. Chi paga, beh, che sia? Beh, fai una cosa. Eh? Quanto c'è la merca? Ma io ho più la matita! Allora, se è più la matita... Eh! ...detti in mente! Un bel sangue! Eh! ...detti in mente! Un bel sangue è un bel sangue, perché dieci ancora di vangu improve e livingine anche tra i bambini e di i c weil Per il panno! Per il panno! Brava! Il panno basta! Allora vince questa scenetta. Anche la nascita di un figlio può essere l'occasione per manifestare il proprio credo sportivo. Di Rino Campania tifosi si! Bravo! Sono il nostro primario ed è il suo assistente che è bravissimo e poi anche la clinica qui hanno stati per e tutti senza inconveniente. Eh, speriamo. Futuri padri, stichelo e rilassete. A dopo! Che lo mi rilassete? E' una parola! Ma chi dico? Guarda! Guarda! Una buona madre! Ma quello che imparate è che il proclinico è il domenica D a servire il naso, guarda! E il meno è il domenico che è giunto il derby! Mi ho mai perso il derby in vita mia! Siamo anche mia! No, no, no! E il diga è preoccupa! Bombay, guarda! Ma l'amica è che la clinica che le nostre mogliere in assiste di... in maniera parfaite! per me sono preoccupa per la mia moglie! E sono preoccupa per la ragione! Cos'è il tipo di ragione è che è per tutte le persone intelligente! Ma tu vuoi dire che invece ti sei mai con gente! ooooh! Grazie! Florì! Qu'è succede? Una bella notizia! E' un magnifico briglet! A chi? A lui! E per me ci avremmo ancora niente? No! Ma lascheremo il conto che si dice che è un pedo di un crociato che fa che è quel partito! Beh, ma... Calporta! Passenza! Arriverà anche al suo momento! Mi chiamano! Ma che pazienza! C'è un mille po' che c'era! Ma lascia lì! C'è un po' che c'era! C'è un po' che c'era! C'è un po' che fiole! Sai che devi fare il piano e sei rifiutato! No! Mi ricordi! Dite un po' parole! No! No! Signori! Ne hai tre bella notizia! Ah si? Al parè! Buono! Ma veramente a seconda nel corassone! E vai! 2 a 0! Non si fa troppo! Mi chiedono che mi... Eh? Dico mica in quel tipo che mi si prende queste tecniche! Dai dottor! L'arbitro è dentro a me! Il dottor è neutrale! La classe viene dal colore della maia con la garanella del tp! Ah! Fioregna! Per piacere! Ti ha detto che mia moglie è tpia con trentacare! E va che dirlo! Ma mi dico! Il dottor è assistente! Come fare? In due le giure squadre! In due le pli! Una sorpresa! Così? Un dottor o no? Eh? Qua stia! No! Stavolta le parcolsi occhi! Il ponte della bandera! Eh! Morena su du! Du smedi! Pare! No! Pare! Ne vai mica dentro a giù! Dai! Che voleva! Eh si? Ancora go! Si? Caregiana! Ma con i suoi amici le so! E 3 a 2! Ma con i suoi amici Dici il dottor che mia moglie l'ha spagappato così facilmente che non ti vede un po' Dio Cesarini Quello succeda! Giuditta Pancincon! Giuditta Oh! Si è una sedessa la forate! No! No! Non ti vede un po' Ah si? Non ti vede un po' Perché? Perché il dottor lo fa diventare Ah si? Si! Dottor Tempo! Come le hai sentito? Come le hai sentito? Come le hai sentito? Dottor! Venduto! Lascia lì! Signori! Le arriva il terza anche a parlare No! Ah eh! Eh! Aspetta un po' cosa? Vado in dita? Ah! Come vado che dica? Gli attaccanti al ferma mi segno una volta l'anno è proprio contro la mia squadra però i me fiori faranno sicuramente gli attaccanti al Reggiano sicuro e i me ci saranno tre columni del ferma Beh! Se gli metti guarda e sarà meglio il garanchè guarda Vede il tuo non è che si vede a fare così non triste Allora signori Che succede? Eh! Dico da dare il tuo notizio una bella e una un po' più brutta Dica! Allora che la bella è che i vostri mogieri li stanno benissimi e anche i buttetti Allora che la brutta invece le costa Dica! Allora i vostri fiori li potranno meglio dare né in tal ferma né in clarezzare C'è? Perché? C'è? Perché? Perché? E allora? Perché? Vi è tutti fermi! Nooo! 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 Grazie a tutti.